Buongiorno a tutti, io sono Andrea Preo del Cavan. Il Cavan nasce nel 1960, qui nella provincia di Venezia, esattamente a Mestre. Inizialmente si occupava di formazione per i barbieri, poi siamo nati come acconciatori misti, che ci occupiamo sia della donna e dell'uomo. Siamo circa una quindicina di soci dove facciamo formazione per i giovani, per affrontarli e portarli nel mondo del lavoro. Curiamo l'apprendistato, ci troviamo una volta due alla settimana e qua aderiamo a una sede nazionale che è l'ANAM, l'Accademia Nazionale Acconciatori Moda. Il nostro punto di riferimento sarà questa sede qui e il nostro numero di telefono per chi vuole contattarci è 041 93 81 24.